Salve a tutti, un consiglio, iscriviti al nostro canale e premi sulla campanella per restare aggiornato sui nostri video. Cosa ci vuole? Niente, basta un clic. Il governo Draghi è rampa di partenza. Il compito è molto arduo perché mettere assieme tante anime diverse non è cosa facile come non è facile il compito del neoministro dell'economia Daniele Franco. Sebbene sia un uomo di grande esperienza perché viene da Banca d'Italia e quindi conosce un po' tutte le problematiche del nostro paese, tra le altre cose si dovrà occupare specificamente all'inizio del suo mandato del prossimo invio a partire dal 1 marzo di 50 milioni tra cartelle sattoriali, 35 milioni e 15 milioni di accertamento. È un peso che certamente i contribuenti italiani ed in modo specifico le aziende nell'immediato non potranno reggere. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato.